Dal governo dobbiamo ancora finire di incassare una parte del contratto e quindi direi che ancora non è chiusa completamente questa vicenda negoziale, per quanto il passaggio sia certamente positivo con l'anticipo di un pezzo significativo delle risorse. Il fronte dell'autonomia differenziata per noi non si è mai chiuso, noi abbiamo proclamato uno sciopero contro il governo Conte 1, abbiamo poi fatto un accordo per escludere la scuola da qualunque intervento di regionalizzazione e adesso ci stiamo preparando per raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare che risolve il problema alla radice, modificando il titolo quinto e riportando la competenza solo ed esclusivamente nello Stato. Quindi noi siamo pronti contro ogni tentativo anche di questo governo di regionalizzare l'istruzione, sarebbe disastroso per il nostro Paese, per ragioni che sono facilmente spiegabili, aumenterebbero le disuguaglianze, le condizioni di lavoro si differenzierebbero in base alla ricchezza delle regioni, una cosa inaccettabile, infatti noi non ci staremmo.